I don't see Sì, salutiamo anche chi ci segue Speriamo che con tutte le fatiche del caso Stiano bene anche i nostri telespettatori Senti, fra questi fogli Io se posso decidere una scaletta così improvvisata Vorrei partire dal vertice Guardiamo a colui che ci guida In questo tempo storico nella Chiesa Il nostro Papa Francesco Che è sempre carico di tante riflessioni Settimana scorsa per chi ci ha seguito Hai mandato in onda la sua splendida preghiera Alla Croce Noi l'abbiamo ripresa anche a Messa Come preghiera dei fedeli Per qualche volta E oggi di nuovo Papa Francesco Ci dà un annuncio che ci porta oltre Sia come Chiesa Ma soprattutto come cristiani A vedere davvero dove dovremmo essere Su quale frontiera giocare le nostre scelte Sì, credo che ci invita a stare attenti Alla globalizzazione dell'indifferenza L'annuncio è che probabilmente Venerdì prossimo, il 15 Andrà a Lesbo Che è un'isola diventata ormai simbolo Della non accoglienza Dell'accavallarsi di un numero Io non sono aggiornatissimo Ma di un numero di prove È il luogo simbolo Come lo era stato per Lampedusa Ormai qualche anno fa È il luogo simbolo Dell'accoglienza e della non accoglienza Di questa Europa Che sta erigendo muri Io credo che Dicevamo prima di accendere i microfoni Non riusciamo a stargli dietro questo Papa Nel momento che Prende in mano quello che ha detto il Giovedì Santo La lavanda dei piedi Il testo dove dice Dietro Giuda c'erano quelli che hanno fatto il denaro Dietro questo gesto E parla di Bruxelles Ci sono i fabbricanti I trafficanti di armi Che vogliono il sangue Non la pace Vogliono la guerra Non la fratellanza E poi appunto tu dicevi Il venerdì santo Croce di Cristo Ti vediamo ancora oggi Nei potenti Nei venditori di armi Che alimentano la fornace delle guerre Con il sangue innocente dei fratelli Parole fortissime Ora che le metti a fuoco Le riprendi Alla luce anche di altre cose Che abbiamo saputo in questi giorni C'è il rilancio Vado a Lesbo E questo ci dice Che però forse dobbiamo Snellire Anche la nostra pastorale E dire forse Ci sono molte cose Che devono andare in secondo piano Ed essere attenti Al fatto epocale Di questo tempo Che è il fenomeno Della migrazione Poi qualcuno Sulla felpa scrive Stop invasione Ma se non ci lasciamo Condizionare da questo Lo vediamo Per i credenti Come un segno Anche di Dio A noi Sicuramente Papa Francesco Ci indica una strada Che noi non possiamo Far finta di niente Anche se i giornali Tendono piano piano Un po' a relegarlo In seconda Terza Quarta Notizia Sì Condivido È chiaro che Quello che il Papa fa È una testimonianza Di fronte a un problema Che viene dibattuto In Europa In maniera Non giusta Secondo me Ma io non sono un politico Però è evidente Che non si tratta Solo di quote Da gestire Si tratta di esseri umani Da capire Perché scappano Prima di tutto Da un paese Perché molti di loro Scappano da paesi Sicuramente belli Affascinanti Sia dal punto di vista Culturale Che paesaggistico Probabilmente tutti noi Scapperemmo Se sopra le nostre teste Bombardano Se non c'è più Possibilità di vita Per i nostri figli Per le persone care Ma caro Dorenato Mentre la mia allergia Mi impedisce quasi Di parlare normalmente Vorrei rimandare a te Di nuovo il microfono Dicendo che in questi giorni La televisione però Ci ha dato tante notizie Anche che ci lasciano perplessi Sia di programmi televisivi Con ospiti Imbarazzanti Io capisco che sono già Imbarazzante io Per non di solo pane Ma pensa Pensa un programma Di livello nazionale Che ospita Un personaggio Figlio di mafiosi Forse anche chi conduce Ogni tanto Qualche riflessore No no Io credo che Visto che è appena Andato in onda Da pochi giorni In cui registriamo Credo che sia importante Dire che Invitare il figlio di Riina In un programma pubblico Dove noi Si discute adesso Dobbiamo pagare il canone Per la RAI Eccetera Un servizio pubblico Ma non solo perché È il figlio di un mafioso Ma soprattutto perché Di fatto li abbiamo Abbiamo Perché siamo coinvolti Lanciato il libro E quindi ha fatto Un'operazione di marketing E di riciclaggio Del papà e del figlio Ma anche perché Lui stesso È indagato per mafia E quindi Non è solo Figlio di Ma è Coinvolto E credo che Le reazioni Da Donciotti Ai parenti Delle persone uccise Ai familiari Delle vittime Ci devono far riflettere Stiamo attenti Quando guardiamo La televisione Ne siamo parti Anche noi Perché stiamo parlando In una televisione Sempre chiederci Ma chi c'è dietro Quali sono gli interessi Perché si dicono Delle cose Perché non se ne dicono Altre E sicuramente La pagina di Bruno Vespa Non è la prima volta È sicuramente Una pagina Squallida Qualcuno Mi diceva Gli amici di Libera Quando Bruno Vespa Farà il plastico Con le vittime Della mafia Con Quei centinaio Di nomi Che vengono letti Tutti gli anni Il 21 Marzo Giornata della memoria Ecco forse Ci aspetteremo Come servizio pubblico Questo E non la pubblicità O dei Casa Monica O dei Rina Che in Italia È un nome Che parla da solo Sembra davvero Che si voglia Sdoganare E come dicevo prima Forse Essere indifferenti Ma sì Ma tanto Una cosa vale L'indifferenza Verso la guerra L'indifferenza Verso i profughi L'indifferenza Verso un'informazione Che è Tragicamente diabolica Ebbè Sono parole giuste Dorenato Quelle che tu dici Io penso Che non spetti Al servizio pubblico Direttamente Perché al servizio pubblico Siamo noi E quindi Lavorare anche Contro un modo diverso Di informarci Di essere parte attiva Del dire no Alle cose brutte Non sottoscrivere più Certi atteggiamenti Che vanno dalla politica Alla religione stessa Alle scelte Scritariate Che ci sono in tanti ambienti È il primo modo In cui noi Possiamo rinnovare Il nostro essere Pubblico Cioè il nostro essere Davvero persone Che hanno in mano La situazione delle cose È evidente che Io personalmente Alcuni canali televisivi Non li vedo da anni Alcune trasmissioni Non le seguo più Tu dirai Segui solo il calcio Che altrettanto è marcio Io lo so In gran parte è così E il calcio Forse per me È soltanto uno scappare Dalla triste realtà Che c'è nelle altre cose Almeno lì è un pallone Ma è chiaro Che tutti questi In questi giorni Tutti i nomi Di tante cose Che hanno trovato A Panama Ci fanno sentire Veramente i poveri Piccoli Tutti Perché Sembra quasi davvero Che sempre E comunque La povera gente Ci vada di mezzo E poi dopo Le aziende chiudono Le fabbriche chiudono La gente rimane senza lavoro Ma qualcuno Porta a casa Buone uscite E miliardarie Continuamente Da un'impresa all'altra Saltellando E mette i suoi soldi Di là Ecco io ammiro Un paese come l'Islanda E quando hanno scoperto Che il loro primo ministro Era leggermente O totalmente coinvolto In questo problema Del Panama Papers Si è dimesso Si è dovuto dimettere Da noi Va tutto bene Va tutto bene Cioè ora che c'è un processo Ora che c'è qualunque cosa Sono passate sei legislature Nel frattempo Ci siamo dimenticati Anche chi è inquisito Chi inquisiva Chi è condannato Chi deve condannare E quindi come si fa Poi Bruno Vespa Rappresenta In fin dei conti Il paese La gente è più interessata Ad avere accanto I drammi Le persone problematiche Le persone brutte Che quelle belle Noi dobbiamo invece Rilanciare il bello Perché di bello Ce n'è tanto A partire magari Da un libro Che non è quello di Rina Ma che è quello di Si di Augusta Baldioli A Omenia Sabato 16 aprile Alle ore 17 Presso la biblioteca Di Omenia Viene presentato Un libro Per ricordare Una carissima amica Baldioli Augusta Il titolo è E stasera C'è la luna Prefazione di Alex Zanottelli Sono raccolte Di scritti Di Augusta Che molti hanno conosciuto Per la sua passione La sua libertà di spirito La sua passione di donna Di impegnata a sognare A costruire un mondo migliore Ci sarà la pastora Francesca Cozzi Qualche donna dell'Udi Qualche rappresentante Dell'associazione Non Solo Iuto Sabato 16 aprile Il titolo del libro E stasera C'è la luna Comunque Prefazione di Alex Zanottelli Sabato 16 aprile Ore 17 Tu puoi venire O hai altri impegni Io potrei persino venire Perché poi alle 20.45 Abbiamo anche noi Un ospite di eccellenza A Giffa Sarà il nostro ospite Padre Raed Che è il direttore Della Caritas Non di una Caritas qualunque Tutti importanti Direttori delle Caritas Ma della Caritas Della Chiesa Madre Cioè di Gerusalemme La Buna Raed Padre Raed Sarà qui Per una serie di incontri In Italia E una di questi Li dedica La parrocchia di Giffa Aperto a tutti Chiaramente In cui verrà a raccontarci Come è la situazione Dei cristiani In quella terra E magari perché no A raccontarci che A poco a poco Quel suono chiamato Assist for Peace Che era un progetto Di calcio e sport Per i bambini di Gerusalemme Di tutte le religioni Ha preso forma E si sta per andare A concretizzare in un gol Lascio a te la chiusura Della nostra puntata Caro Renato Sì io credo che meriti Farò il possibile anch'io Per incontrare La Buna Raed L'ho incontrato L'abbiamo incontrato Tante volte Nella terra di Palestina Terra occupata Nei campi profughi Il fatto che venga qui Credo sia una grossa opportunità Per tutti In più Anche per Lo dico io Ringraziare Angelo E tutti gli altri Per questo progetto Di questo campo Che ormai È finito Un campo sportivo Nel cuore Vicino alle mura Antiche di Gerusalemme E credo che ci aiuti A vedere con occhi diversi Sia la realtà di Gerusalemme Sia anche il mondo del calcio Che come diceva lui A volte è un po' complicato E poi vedremo di ritornarci Ma il fatto che abbiamo i campionati di calcio Del 2022 In Qatar Ci deve far riflettere Primo perché Amnesty ha denunciato Che in Qatar i lavoratori Sono trattati praticamente come schiavi Una mortalità sul lavoro altissima Viene loro requisito il passaporto E poi perché il Qatar è Ufficialmente tra i primi sostenitori Dell'Isis Come finanziamenti Come armi E allora Se siamo contro l'Isis Possiamo andare tranquillamente in Qatar Vedremo di ritornarci Però come non di solo pane Potremmo lanciare un boicottaggio E proporre Chi è la FIFA che organizza O la UEFA La FIFA che organizza Perché non boicottare Il campionato mondiale in Qatar Se siamo contro l'Isis Vediamo che risposta può avere Bisognerebbe ridare poi le tangenti Che ha preso Blatter e qualcun altro Per aver fatto l'Immodiale Vedi c'è un lavoro duro da fare Più che fare il playground a Gerusalemme Però è chiaro che questo È un messaggio forte Che magari troverà anche qualcuno Contento e qualcuno contrario O ben disponibile a confrontarci Su questa tematica Dorenato Salutiamo i nostri amici Che ci hanno seguito Ringraziamo anche Loris Che per via delle mie allergie Ha dovuto fare peripezie con la telecamera Per isolare il mio naso Dalle telecamere Adesso è quasi inquadrato Quindi io saluto gli ospiti Gli amici che ci hanno seguito E ridò a te la parola Per salutare tutti Augurando a tutti Una buona continuazione di Pasqua Anche domenica Le letture che ascolteremo Ci diranno di un Gesù Che ritorna a trovare i suoi discepoli Mentre lavorano E spezza di nuovo con loro La gioia della condivisione Del pane e dei pesci Sì noi ci ritroviamo Avremo modo mare di parlare Con padre Raed La settimana prossima Se riusciamo a intervistarlo E anche dire che oggi Questo mondo Invece di spezzare il pane e il pesce Aumenta le spese militari L'ultimo rapporto Sipri Dice che nel mondo Nel 2015 Si è speso di più In armamenti Rispetto al 2014 Altro che pani e pesci Ci vediamo la settimana prossima Arrivederci